S3-2 a discrezione, ricorda pronto, sarà il numero 2 alla partenza. S3-2 a discrezione, ricorda pronto, sarà il numero 2 alla partenza. S3-57, finalmente decoro 2-9 a discrezione, la pista è libera, il vinto da 1-2-0-3-9. Il viazzare il 5-7 si allina per decollo immediato 2-9. S3-2 a discrezione, il rullaggio via arborato e la testata 2-9, risposta pronto. S3-2 a discrezione. S3-9 a discrezione. S4-9 a discrezione. S3-1-0-3-9. S3-1-2 mantieni, abbiamo il decollo del Pilatus che va via diretto. S3-1-0-3-9. è libera il vento da 12039, copiato controllato decollo via 7732, allineamento decollo 29 a discrezione, il vento è da 12049 allineamento decollo 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 allineamento decollo